In questo tempo di luglio rovente sto leggendo un libro su più quinto di Roberto De Mattei e mi è venuto in mente di fare delle pillole sull'epanto. De Mattei ne parla molto diffusamente e bene. Qual è il contesto mondiale? L'epanto innanzitutto una grandissima vittoria della flotta cristiana contro la flotta turca che fino all'ora, cioè fino al 1571, era vincente, strabordante. Nel 1500 l'Europa cristiana è sotto attacco da parte dei turchi all'esterno e da parte dei protestanti all'interno. Quindi è una situazione davvero molto difficile. E in questa situazione molto difficile vengono anche all'interno della Chiesa Cattolica delle tendenze che sono diverse, delle diverse anime diciamo. Quelli più concilianti, quelli meno concilianti, insomma è un magma di posizioni diverse per tanti aspetti simile a quello che succede oggi. Allora, chi è l'anima della Lega Santa che poi porterà alla vittoria e quindi all'arresto dell'avanzata che fino all'ora sembrava straripante dell'Islam per mare? L'anima è un santo papa. Pio V. Pio V ha cercato in tutti i modi di mettere d'accordo potenze che sì cristiane, ma che avevano interessi temporali molto diversi. E di fatto è riuscito solo a coagulare sotto la Lega Santa patrocinata da lui la Spagna di Filippo II, la più grande potenza dell'epoca, e la Serenissima, la Repubblica di Venezia. La Serenissima Repubblica di Venezia, la quale era in prima battuta attaccata, in qualche modo distrutta, a tentativo di distruggerla da parte dei turchi. Quindi Pio V manda tanti ami in Polonia, all'Impero, in Francia. Voglio adesso fare un piccolo accenno a quello che succede in Francia. In Francia regna Carlo IX, che è figlio di Caterina dei Medici e di Enrico II. In quell'epoca ci sono le guerre di religione di Francia, in cui la corona con Caterina è impegnata, in prima battuta si potrebbe dire, a sostenere gli ugonotti, cioè i calvinisti. Quindi a sostenere i nemici dei cattolici, perché li riempie di favori, li riempie di perdoni delle devastazioni che avevano organizzato, grazie ai complici inglesi e tedeschi della cattolica Francia. Allora, così scrive Pio V a Carlo IX, che aveva detto che lui non poteva far parte della Lega Santa, per il semplice motivo che aveva già rinnovato un'alleanza con i turchi. Perché? Perché tutto il Cinquecento è caratterizzato dall'alleanza dei re di Francia, a cominciare da Francesco I, che muore nel 1947 e regna per una cinquantina d'anni quasi, che quindi è determinante nell'impostazione della politica francese. L'alleanza della Francia con i turchi, in funzione anticattolica, in funzione antiromana. Su questo non c'è dubbio. Perché? Perché in funzione antispagnola. C'è sempre la Francia che non si accontenta mai di quello che ha e vuole sempre essere la prima, ma i primi erano gli Osburgo di Spagna all'epoca. Allora, di fronte alla considerazione di Carlo IX, che scrive al Papa, beh, io ho già firmato questa alleanza, il Papa scrive Quanto all'alleanza stretta dai re, vostri illustri antenati, e che vostra maestà, come si esprime, vuol mantenere nell'interesse stesso della cristianità, così aveva avuto l'ardire di scrivere al Papa Carlo IX, vi diciamo che questa è solo una strana illusione e un grave errore. È un dimenticare che non si deve mai fare il male per il bene. E questo è vero. Non ci sono scorciatoie al mondo. Non ci sono scorciatoie per la nostra condotta, come per la condotta degli altri. Il torto dei vostri antenati non giustifica il vostro. Il Signore punisce talvolta nei figli i peccati dei genitori. Quanto più eserciterà il Dio giustizia, la sua giustizia, su quelli che vogliono perpetuare gli errori dei loro padri. Sarà un caso, ma la rivoluzione francese terribile è capitata proprio per l'appunto in Francia.